Pier Paolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello VIP, è pronto ad affrontare una nuova sfida teatrale nel ruolo di Rocky Balboa. Pier Paolo Pretelli, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, si prepara a un nuovo ed emozionante capitolo della sua carriera artistica, il teatro. L'annuncio è giunto direttamente dai suoi profili social, scatenando l'entusiasmo dei suoi fan. Ma la vera sorpresa è stata scoprire chi ha voluto questo talentuoso ex GFino, per un ruolo di spicco, un illustre ex docente di Amici, amato dal pubblico. Scopriamo insieme di chi si tratta e quale emozionante progetto teatrale lo attende. Pier Paolo Pretelli sul palcoscenico, l'atteso debutto teatrale nelle vesti di Rocky Balboa. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, e aver mostrato il suo talento in programmi come tale e quale show, Pier Paolo Pretelli si prepara a calcare i palcoscenici teatrali. Lo farà con un ruolo di grande impatto. Quello di Rocky Balboa nel celebre musical, ispirato al leggendario film del 1976. Un'opportunità unica che lo vedrà interpretare un'iconica figura della cultura popolare, un ruolo che ha entusiasmato migliaia di spettatori in tutto il mondo. La notizia del debutto teatrale di Pier Paolo Pretelli, è stata accolta con grande entusiasmo dai suoi fan. Ciò che però ha incuriosito tutti, è stato capire chi ha voluto proprio lui per un ruolo così di spicco. Ebbene è stato Luciano Cannito a volerlo, un ex insegnante di danza di amici. Grazie alla sua esperienza e al suo talento, Cannito ha plasmato numerose generazioni di artisti, conferendo così a questo nuovo progetto di cui è il regista, una profondità e un'importanza speciale. Un nuovo capitolo nella carriera di Pretelli, dall'esperienza al Grande Fratello dove ha raggiunto la finale e conquistato il cuore del pubblico insieme alla sua compagna Giulia Salemi alla sua trasformazione in un artista a tutto tondo. Ora Pretelli è pronto a stupirci, offrendo al pubblico uno spettacolo indimenticabile. L'attesa del suo debutto nel ruolo di Rocky Balboa è palpabile, e non è difficile capire il motivo. Con il sostegno di un regista di grande esperienza, il 18 ottobre segna l'inizio di una nuova avventura per lui, e noi siamo super curiosi di scoprire il risultato. Grazie!